Mettere insieme pubbliche amministrazioni ed operatori privati nel campo dell'ICT, ovvero dell'Information and Communication Technology, per la sesura di progetti in grado di intercettare finanziamenti nell'ambito delle nuove programmazioni 2014-2020 a carattere comunitario, nazionale e regionale. È stato questo l'obiettivo dell'incontro promosso dalla città metropolitana di Napoli, che ambisce a diventare ente intermedio e interlocutore diretto dell'Unione Europea nel settore della pianificazione dei fondi, svoltosi questa mattina nella Sala Mariella Cirillo della sede di Piazza Matteotti. Al workshop, coordinato dal capo di gabinetto della città metropolitana, sono intervenuti tra gli altri il vice sindaco e diversi consiglieri delegati della città metropolitana, sindaci e amministratori locali e di rappresentanti di Almaviva, Cisco, Engineering, Fastware, BBM, Oracle, Siemens, Telecomitale e Vodafone. I principali temi su cui gli operatori sono stati chiamati ad avanzare proposte sono stati quelli della pianificazione territoriale, della programmazione scolastica, dell'ambiente, della mobilità, della sicurezza e dell'ICT appunto, nell'ambito del programma dell'agenda digitale metropolitana. La città metropolitana dispone infatti già da tempo di un sistema informativo territoriale che gestisce tutto il patrimonio dei dati relativi all'ambito provinciale e fornisce una molteplicità di servizi specialistici a favore di strutture dell'ente, dei comuni e di diversi utenti privati. Particolarmente apprezzate sono state dunque le proposte in grado di coinvolgere su questo sistema il più ampio numero di fruitori finali tra imprese e cittadini. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS